E per ringraziarvi che siete stati qui pazienti e a guardare sto scempio presentato Voglio vedere tutte le mani a tempo perché sento una figata qui di stasera E' l'invito di teori Qui si è l'ok? Un applauso a l'invito di teori Forza Visto E' l'invito di teori 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 Grazie E' l'invito di teori Grazie 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 Grazie